Fare una lineart è un po' come fare la ceretta, se andate con troppa titubanza viene fuori uno schifo ed è un'inutile sofferenza. Quindi armatevi di gesti decisi, rimbocchiamoci le maniche e partiamo con una lineart. Il modo più semplice è quello di scansionare da un'immagine che avete inchiostrato tradizionalmente e importarlo nel computer, come ho fatto vedere in un video di tipo un milione di anni fa. Altrimenti, se volete darvi all'alta tecnologia, si può partire direttamente in digitale e questo è il modo in cui lo faccio io. In molti mi avete detto che la difficoltà maggiore che riscontrate nelle lineart ovviamente è quella di fare una bella linea pulita ed elegante. Questa è una difficoltà ovviamente anche per me, perché molto spesso devo rifare la linea anche 7-8 volte prima che venga esattamente come la voglio io e nel frattempo è tutto un CTRL-Z, CTRL-Z, che sono i tasti che in Photoshop permettono di retrocedere di un passo. I miei consigli ovviamente, a parte molto molto esercizio nel cercare di prendere manualità nel fare delle linee uniche e pulite, è quello di non usare Photoshop, perché altri programmi come Paint Tool Sai o Manga Studio hanno all'interno delle funzioni, diciamo che servono proprio a rendere più armonioso il tratto una volta che lo fate sul foglio. Se proprio però siete dei testardi come me e volete usare Photoshop, il mio consiglio è non cercate di fare a piccoli tratti le linee. Questo perché più tratti fate nel tentativo di seguire la traccia sottostante, più è facile che le estremità di una e dell'altra non combacino tra di loro, creando delle linee più spesse di quelle che desiderate e soprattutto un effetto peloso, tipo linea peluche, che non è esattamente quello che si può dire una bella linea da vedere. Un'altra cosa che eviterei è quella di fare un unico movimento lento, perché purtroppo lo strumento penna è un po' impreciso e nella lentezza magari coglie delle micro vibrazioni oppure delle micro scalfiture della vostra tavoletta grafica se non è nuovissima e le riproduce su schermo con delle linee tremolanti che sembrano tipo un po' sismografo e non è per niente carino da vedersi. Quindi quello che vi consiglio è cercare di fare meno linee possibili, quindi esercitatevi in questo e piuttosto tornate indietro con CTRL Z una o due volte in più, ma nel momento in cui riuscirete a fare una linea come si deve sarà un'unica linea. Un altro consiglio che vi do è quello di non usare una punta troppo sottile del pennello che usate, perché intanto se ha un minimo di spessore poi potrete lavorarci e fare degli effetti interessanti, quindi valorizzare di più una linea rispetto a un'altra facendola un pochino più spessa e poi perché più è sottile la punta che usate più è facile che le due estremità di una linea e dell'altra non combacino e che creino appunto delle forme spezzate non proprio bellissime da vedere. Quindi cercate una punta che vi dia una bella soddisfazione. Di tre coniglietti che ho fatto di prova come potete vedere ce n'è uno più luscioso, uno tremolante e l'ultimo per quanto comunque non preciso visto che in nessuno dei casi ho usato CTRL Z è comunque quello che ha la linea che più assomiglia a una cosa bella come piace a me. Per fare questo disegno mi sono già preparata una bozza in azzurro, ma si può usare un qualsiasi colore che non sia il nero, magari un colore brillante in modo che faccia contrasto e non ci renda difficile la lettura della bozza rispetto alla linea quando andiamo a inchiostrare digitalmente e ho preso ispirazione da una modella che si chiama Kato che è una cosa fichissimitica e questa cosa potete usarla più o meno per qualsiasi lavoro. Sono andata nella barra in alto di Photoshop per sistemare i documenti. Con questo metodo se avete una foto riferimento e lavoro vostro già aperti su Photoshop potete arrangiare le finestre nella maniera che più preferite, in questo caso una di fianco all'altra, in modo da avere sott'occhio contemporaneamente sia la reference che il disegno su cui state lavorando. La prima cosa da fare è la scelta del pennello. Per fare la lineart prendo il più comunissimissimo dei pennelli, rotondo, sensibile ovviamente alla pressione, e semplicemente vado a provarlo sul foglio per vedere rispetto alle dimensioni dell'immagine che sto facendo quant'è lo spessore massimo che posso ottenere, cercando ovviamente che non sia troppo grosso. Per comodità potete anche rendere il livello della bozza a un'oposità un po' più bassa in modo che sia visibile ma non fastidioso per poterci inchiostrare sopra in maniera molto più tranquilla per avere una visione migliore dell'intera immagine. Personalmente parto dal volto perché poi è la parte su cui si sofferma di più l'occhio anche di chi osserva l'immagine e quindi è quella che deve essere perfetta. Comincio quindi dalle caratteristiche del viso, occhi, sopracciglia eccetera, cercando di non appesantirle troppo. Quindi ad esempio del naso faccio giusto un accenno della narice, un po' il dorso nasale, però non mi soffermo ad esempio sulle piene nasali perché mettere troppi segni renderebbe pesante il viso e meno fichissimo ovviamente perché sembrerebbe più vecchio eccetera. L'unico accenno che faccio eventualmente è in alcuni punti ad esempio sotto il labbro o in altre zone dove andrebbe un'ombra molto importante tipo sotto i capelli. Posso fare un accenno con una linea un pochino più grossa, però questo dipende ovviamente, è tutto in proporzione al risultato che volete ottenere perché se la lineart è il vostro disegno definitivo, perché volete fare, non lo so, un manga tipo Nana, potete dedicare un pochino più spazio ai dettagli come ad esempio una ruga eccetera perché non avrete poi a supporto una colorazione importante e quindi andrete a lavorare tutto sul chiaro scuro, il bianco e il nero. Nel mio caso invece si tratta di un'immagine fatta allo scopo di essere poi colorata e quindi cerco di tenerla tutta abbastanza armoniosa e leggera senza appesantire troppo tranne appunto sotto il collo o altri punti dove ci sarebbe un'ombra molto molto scura e quindi ci sta bene anche una linea un po' più pesante. Per quanto riguarda le proporzioni del viso, io cerco personalmente di fare qualcosa di ritrattistico comunque e quindi ottenere poi un'immagine che sia riconoscibile come appunto la modella Kato ma leggermente modificando i tratti, quindi facendo il mento un pochino più appuntito, l'occhio leggermente più grande. Se invece volete ottenere un effetto molto più calcato, molto più orientaleggiante, ovviamente andrete a fare gli occhi molto più grandi, il naso più sottile, il collo più esile, la faccia a V pesantissima, ma ovviamente dipende da cosa volete ottenere. La parte che trovo in assoluto più difficile da fare sono i capelli perché sono composti da un gran numero di linee molto lunghe che è bruttissimo vedere spezzate e che quindi devo cercare di fare con un unico movimento della mano. Nel fare questo mi aiuta molto zoomare all'indietro per il semplicissimo concetto che è più facile fare un movimento corretto se dovete coprire una superficie più piccola rispetto a una più grande perché ovviamente più strade compie il braccio più è facile che incappi in qualche errore. E quindi, a differenza del viso dove tendo a concentrarmi sui dettagli e quindi tenere l'immagine molto zoomata, cerco di andare all'indietro e di fare le varie sciocche man mano con degli unici gesti e rifacendola anche più e più volte fino a che non viene esattamente morbida come voglio io. Per aiutarmi a fare questo non ho dei trucchi particolari se non l'ausilio della gomma perché in abbinata al pennello rotondo uso una gomma sempre rotonda, sensibile alla pressione con la quale se una linea è bella però ha un punto leggermente troppo spesso oppure la curva è venuta un po' troppo segmentata andando a correggere con la gommina nel punto desiderato riesco a raddrizzare e rendere migliore la linea senza doverla rifare ovviamente da zero. E infine una cosa che mi piace veramente molto è utilizzare il negativo. Una volta che ho fatto un buon numero di ciocche vado a creare una ciocca soprastante con la gomma quindi in realtà la ciocchettina sopra non ha delle linee di demarcazione sue proprie nel disegno in genere è solo una tipo la linea più in basso o quella più in alto e l'altra linea la lascio all'immaginazione di chi guarda quindi sarà chi guarda che vedendo spezzarsi le ciocche sottostanti immaginerà la presenza di una ciocca sopra molto più chiara quindi giocando un po' come se la ciocca fosse più illuminata eccetera. non è facilissimo, non la uso troppo spesso però secondo me serve a dare movimento e rendere più interessante tutta la capigliatura qualche ciocchettina riposto scompigliata ci sta bene perché non ho mai amato le pettinature alla Playmobil e allo stesso modo ad esempio nella trecciona prima vado a disegnare tutte le linee, varie ciocchettine eccetera e poi con la gomma vado a togliere alcune linee per renderla più leggera ma comunque leggibile come immagine. di solito il fatto di andare a cancellare delle linee di lasciare una parte bianca la faccio quando ad esempio due oggetti si toccano quindi in questa immagine dove la treccia si tocca col seno oppure appunto dove si toccano due seni che sono tipo schiacciati e quindi invece che disegnare tutta la linea lascio una parte bianca cancellata nel mezzo per dare di più l'idea di due cose appiccicate perché ha due bocce stratosferiche se non c'è la necessità di fare una colorazione poi piatta e quindi selezionare di zona in zona cosa per la quale necessitate per forza tutte le linee chiuse per comodità a me piace molto lasciare delle cose un po' così all'immaginazione l'aggiunta di piccole chicche o bottoncini o orecchini o altri piccoli oggetti non è necessaria ma in questo tipo di illustrazione che volevo fare sarà molto utile alla fine a dare un'idea di curato molto realistico e molto dettagliato mi piace oltre a cercare di essere precisa utilizzare le linee per andare a supportare quella che poi sarà la colorazione quindi come nel caso dei capelli andrò a fare linee molto sottili o totalmente assenti nei punti in cui poi voglio mettere della luce e le farò più spesse aggiungendo dei punti assolutamente neri dove poi vorrò mettere l'ombra in questo modo già prima della colorazione avrò le linee molto più movimentate e quindi un'immagine un po' più interessante che poi andrà a supportare quelle che saranno i chiaroscuri una volta che la si andrà a colorare la stessa cura, lo stesso trattamento lo riservo un po' a tutti gli oggetti quindi anche alle lenti di questo paio di occhialoni steampunk dove la parte superiore delle lenti viene lasciata completamente in bianco per poi andare a simulare il riflesso che ci sarà sul vetro in aggiunta però vado a mettere un piccolo tratteggio che mi aiuta a rendere alcuni tipi di superfici diverse non lisce quindi magari questi occhiali un po' vecchi oppure dei tipi di stoffe o altri materiali particolari una cosa che è bene ricordarsi di fare ogni tanto è un bello zoom all'indietro in modo da guardare l'immagine nel complesso per controllare a sproporzioni se alcune linee funzionano meglio un pochino più spesse o più sottili e quindi per avere un'idea generale non restare fossilizzati nella stessa immagine un ulteriore aiuto a una visione d'insieme migliore è quello di rovesciare il foglio da sinistra a destra per vederlo da una prospettiva diversa ogni tanto dopo aver controllato in generale passo alle orecchie che sono la parte più facile perché essendo fatte di pelliccia ho scelto di metterci anche un elemento pelliccioso perché sono facili appunto si fanno un sacco di trattini in alcuni punti per dare l'idea di pelusciosità e sono piuttosto facili è difficile sbagliarle al contrario dei capelli che occupano un volume maggiore aggiungo anche qui un po' di tratteggio qua e là per dare sempre l'idea di qualche pelucco mosso e vado a lavorare anche in questo caso in negativo quindi faccio nell'incavo dell'orecchio una grande massa nera e poi vado a creare il peli con la gommina piuttosto che col pennello perché crea un contrasto molto particolare e secondo me funzionale se in alcuni punti vi accorgete che un elemento è sproporzionato non preoccupatevi non è un trauma succede a tutti vi sarà semplicemente necessario andare a selezionarlo con il lazzo ridimensionarlo con CTRL T e andare a ricostruire le parti mancanti con la penna niente di particolarmente grave e finalmente arriviamo alla parte dove possiamo barare spudratamente che non è proprio così perché lo fanno anche nei manga forse avrete notato che soprattutto negli sfondi spesso utilizzano delle cose che sono chiaramente delle foto rimaneggiate nei toni di bianco e nero quindi senza nessuna sfumatura per renderli molto simili alle immagini disegnate e velocizzare così il lavoro del mangaka quindi per alcuni oggetti molto particolari molto meccanici molto regolari che quindi fare a mano renderebbe poco perché ovviamente la mano è più libera è più morbida che non un oggetto freddo e metallico andremo ad utilizzare una foto di base quindi trovo una foto di un orologio da taschino la importo la rendo in bianco e nero e a questo punto con il tasto ctrl l oppure semplicemente andando su curve vado a ritoccare i punti di nero i punti di luce e gli intermedi in modo ad ottenere l'immagine il più simile possibile a quella che sto facendo io quindi con il bianco per l'80% dell'immagine e il nero esclusivamente sulle linee o nei punti dove ci sono delle ombre molto intense quindi in modo che si leggano bene i numeri ma che il resto dell'immagine sia quasi praticamente tutta bianca a questo punto potete andare su seleziona color range andare a selezionarvi la parte bianca in modo da poterla cancellare con ctrl x e tenere solamente la parte nera che poi potrete andare a fondere con ctrl e al resto dell'immagine a questo punto si vede la differenza tra quella che era la foto e il resto della vostra illustrazione però sarà sufficiente con il pennello andare a ritoccarla nei punti salienti quindi il bordo e altre parti che magari sono venute anche un pochino pixelate per renderla uniforme soprattutto nelle parti curve io mi trovo malissimo perché ho il polso abituato a fare le curve in un dato modo e quindi se l'immagine richiede una curvatura in un punto diverso mi viene da storcermi completamente sulla tavoletta grafica facendo contorsioni che è molto scomodo per ovviare a questo problema esiste il tasto della tastiera R che vi permette di ruotare comodamente il foglio in modo da agevolare la manualità in questo modo potete fare le curve come più vi aggrada continuando a girare il foglio e quando volete ripristinare con reset la posizione originale e questo senza perdere minimamente la qualità del disegno è proprio come se voi prendeste il foglio di carta e lo giraste perché vi viene male disegnare in un modo e preferite girarlo ed è veramente molto molto comodo come potete vedere l'orologio in questo modo ha i suoi numerini i suoi ingranaggi fatti bene è abbastanza omologato uniformato al resto ed è sicuramente più bello di quanto non sarebbe venuto se l'avessi disegnato completamente a mano perché i cerchi non sarebbero venuti perfetti i numeri nemmeno eccetera eccetera a questo punto ho completato l'immagine come ho fatto fino adesso quindi aggiungendo inserti nell'abito nella stoffa aggiungendo bottoni cuciture di vario tipo cercando comunque di fare tutte le linee il più leggere possibile e correggendole tantissimo con la gomma per gli ossessivi compulsivi e malattie di testa come me aggiungo il link a un vecchio video dove realizzavo un pennello che simula la cucitura con il quale potete impreziosire ulteriormente i vestiti e le varie stoffe senza dover disegnare il tratteggio un pezzettino alla volta quindi questo è il metodo con cui io faccio le line art spero sia stato abbastanza esauriente che abbia magari vi abbia fatto scoprire qualcosina di nuovo e di poter fare anche la seconda parte della colorazione a breve spero se avete delle domande potete lasciarle nei commenti sotto il video e se il video vi è piaciuto condividetelo mettete mi piace o fatemi ciao ma perché sei stupida perché ciao 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 ciao